C'è un caldo africano proprio di quelli torridi, però si sopravvive insomma. Eh, si fa sentire abbastanza. Ma si riesce ancora a sopportare o si fa fatica? Adesso ancora ancora sì, forse verso luglio-agosto diventa più pesante. Ah, tu dici se partiamo così luglio-agosto andrà ancora peggio? Sì, secondo me sì. Dopo si spera con qualche pioggierellina, però la vedo un po' difficile ora come ora. Male, molto male. Troppo. Troppo. Fin troppo male. E per lei troppo caldo? Sì, troppo caldo, sì sì. Beh no, non è mica colpa nostra. Ma cosa si può fare per stare un po' più freschi? Stare dentro caldo? Sì, sarebbe l'unica di stare tranquilli, le ore più calde soprattutto. Troppo caldo. Troppo caldo e allora cosa bisogna fare? Bisogna fare andare ai mari. Un bagnetto andrebbe bene, però vabbè si sta ancora bene, dai. È molto caldo, sì. Diciamo che il clima e anche stare a bagno, magari in mezzo a non tanta gente, sarebbe l'ideale, sarebbe. E bere, bere e refrigerarsi. L'è temperatura giusto, no? Non è troppo caldo per assoluto? Ma no, sono 29, 30, 28, questa settimana sono così. Poi piano piano deve andare più avanti le temperature, è normale questo. Quando fanno caldo ora, quando fanno?